Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze emotive per la seconda parte di febbraio. Come sempre vi ricordo che sono letture fatte per un collettivo, quindi prendete solo i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete un messaggio più completo vi consiglio di andare ad ascoltare anche il vostro ascendente e il vostro segno lunare. A tal proposito sotto nella descrizione ho lasciato il link di un video dove spiego come integrare il messaggio dei tre oroscopi, quindi quello del segno lunare, dell'ascendente e del segno solare. Bene. Mostrami, Vergine, tendenze energetiche romantiche affettive per i prossimi 15-20 giorni. Wow! Ruota della fortuna! Cari amici della Vergine, qualche cosa sta per cambiare. Potrebbe essere che si sta chiudendo un ciclo e si sta iniziando un ciclo nuovo. Per qualcuno fa riferimento proprio a quello che sono i cicli carmici, magari vi state infilando o state iniziando quello che è un nuovo percorso di vita, insomma un nuovo ciclo carmico appunto. Per qualcuno può anche fare riferimento a quello che è una botta di fortuna, quindi non lo so, potrebbe anche riguardare un regalo inaspettato, una vincita inaspettata o comunque anche dei soldi inaspettati. Anche eredità alle volte fa riferimento. Andiamo a vedere. Nello specifico? Ok, allora abbiamo un fante di bastoni, un matto, tre di coppe, cinque di bastoni. Allora, con questo fante di bastoni al contrario sento che c'è qualcuno qui che ha bisogno di, fondamentalmente sì, di cambiare qualche cosa. Sento che c'è questo, come vi posso dire, questo lato divertente della vita che è rimasto un po' assopito dentro di voi, ok? E anche la carta del matto mi dice un po' che c'è bisogno di ritrovare quel sano impulso genuino, ok? Quella sana fiducia nella vita. Per qualcuno fa riferimento a quello che è un'azione di tipo impulsivo, un'azione fatta, diciamo, senza pensare molto. Il tre di coppe mi fa riferimento a quello che sono le celebrazioni, a quello che è il ritrovare gli amici, le amicizie. Andremo poi a vedere nello specifico di che cosa parla. Poi abbiamo un cinque di bastoni. E il cinque di bastoni qua mi fa pensare al fatto che ci siano dei conflitti, al fatto che magari ci sia un qualche tipo di concorrenza, un qualche tipo di disaccordo. Qui abbiamo un otto di coppe, un fante di coppa al contrario. Sì, c'è una sorta di discussione in atto con questo cinque di bastoni ed è come se sento che per molti è sempre la stessa cosa di cui si discute, è una cosa ripetitiva. Lotto di coppe mi parla di quello che è un allontanamento da parte vostra o da una situazione, da una relazione o magari solo da questo tipo di conflitti, ok? Ricordatevi che avete la ruota della fortuna, quindi qui cambi in vista. Il fante di coppa al contrario fa riferimento a una persona che potrebbe essere nella vostra vita. Guardate che avete i due fante, tutti e due a testa in giù, ok? Quindi sento che c'è questa energia piuttosto immatura, potrebbe essere inerente a quello che è la persona che state conoscendo, quello che è il vostro attuale compagno o compagno, ok? Per certi versi potrebbe essere una persona più giovane di voi, ok? Ma sento che c'è il bisogno così di lasciarsi indietro delle cose e di iniziare con questo mago a manifestare quello che è la vostra realtà, cioè iniziare a cercare, come vi posso dire, a manifestare quello che è la vostra vita ma in modo consapevole, essendo consapevoli dei pensieri che si fanno perché il pensiero crea, ok? Quindi cercate di controllare proprio il modo in cui formulate i pensieri, ok? E' molto importante perché dire, è come il bicchiere mezzo pieno e il bicchiere mezzo vuoto, ok? Quando si presenta davanti a qualcuno un bicchiere appunto con l'acqua fino a metà, c'è chi vede il bicchiere mezzo vuoto e chi il bicchiere mezzo pieno. Chi vede il bicchiere mezzo vuoto tende a guardare quello che manca, ok? Quindi ha una visione pessimistica della vita. Chi vede il bicchiere mezzo pieno tende a guardare quello che ha, cioè è come se desse un valore a quello che già ha e quindi quel tipo di persone lì normalmente hanno una visione un pochettino più positiva, se vogliamo, della vita, ok? Bene, andiamo a vedere perché abbiamo questo fante, ok? Allora, dieci di pentacoli e il sole. E io credo che ci sia qualcuno qui che, non so a quanti posso fare riferimento, però sento come se ci fosse qualche persona molto giovane che ha bisogno di esprimere se stesso, ha bisogno di staccarsi dalla famiglia, ha bisogno di trovare direi la propria strada, ok? E il matto è spiegato dalla luna e dal sette di spade, wow! Allora, io qui sento che c'è qualcuno che non ha un'idea chiara di quello che è la situazione, ok? La luna parla di cose nascoste, il sette di spade anche. Quindi sento che qui c'è qualcuno che sta prendendo un qualche tipo di decisione, un qualche tipo di iniziativa. Ricordiamoci che il matto è un numero zero, quindi è la chiusura di un ciclo per iniziare qualche cosa di nuovo, ma sento che non ha le idee completamente chiare perché non sa tutta la verità, non sa realmente le cose come stanno. C'è qualcuno qui che o vi sta raccontando bugie oppure siete voi che presi forse un pochino dall'enfasi del matto e vi state raccontando delle bugie. Non riuscite a vederci chiaro, se vogliamo. La carta della luna anche qui parla delle cose nascoste o delle proiezioni, quindi può darsi che qualcuno stia facendo un qualche tipo di scelta perché ha in testa un certo tipo di risultato, ma non è poi così ovvio questo risultato, ok? Se per esempio fosse inerente a una relazione che già avete, questo fante di bastoni potrebbe rappresentare proprio quello che è la vostra persona e queste due carte mi fanno pensare che è come se non ci fosse la voglia di crescere un pochettino, ok? E quindi c'è questo tipo di atteggiamento un po' di buttarsi a capofitto in qualche cosa proprio per questo tipo di energia che avevamo qui. Andiamo a vedere il 3 di coppe, wow quante carte per il 3 di coppe. Allora abbiamo un 4 di coppe, scusate, un 6 di spade al contrario, un imperatrice al contrario, 7 di coppe al contrario e 8 di coppe. Vi faccio notare che l'8 di coppe ce l'avevate anche qui, vediamo se riesco a mettere le carte un po' più in su. Ok, quindi anche qui sento che c'è qualcuno che ha bisogno di essere riconosciuto dall'esterno, ha bisogno, probabilmente il 3 di coppe normalmente fa riferimento a quello che sono gli incontri di festa, no? Gli incontri, ma parla anche di amicizie. Quindi quello che sento io è che per certi versi c'è qualcuno che sta aspettando un riconoscimento dall'esterno, sta aspettando... C'è anche un 4 di coppe, no? In questo caso è come se si stesse vedendo il bicchiere a mezzo vuoto, cioè si sta cercando di vedere... Si vede, si pone l'attenzione su quello che non si ha in realtà, che è proprio questo tipo di riconoscimento, questo tipo di visione del futuro. Avete un 7 di coppe al contrario, un'imperatrice al contrario, quindi io sento che c'è una sorta di contrazione, ok? È come se non si vedessero altre possibilità. Si volesse questo tipo di cambiamento, però è come se non ci fossero delle reali possibilità. Non ci si riesce a sganciare da questo tipo di situazione. Magari perché qualcuno con questo fante di bastoni ha proprio costruito quello che è una famiglia, ok? Andiamo a vedere... Ok. Allora, il 5 di bastoni è spiegato da un 2 di pentacoli e da un 10 di spade. Sì, sento che qualcuno qua fa difficoltà a gestire le energie. Comunque ricordiamoci che il 10 di spade parla sempre di quello che è la chiusura di un ciclo, l'inizio di un ciclo nuovo e comunque anche di un tradimento. Di un qualche tipo di sofferenza che avete dentro adesso, no? E' un po' come se... Sento qui che siete combattuti tra quello che è la sofferenza che state vivendo e il fatto di andare avanti in questa situazione. Ma ricordatevi che avete la ruota della fortuna, quindi qui qualche cambio o sì o sì deve avvenire. O che sia un cambio vostro, o che sia un cambio dell'altra persona, o un cambio, diciamo, insieme. Lotto di coppe è spiegato dal 2 di bastoni e dal lotto di bastoni. Quindi sì, sento che c'è verso, diciamo, la seconda parte della lettura, quello che è un vostro andare verso mete migliori, sento, ok? C'è la voglia di pianificare il futuro, c'è la voglia di andare avanti, c'è la voglia di guardare verso orizzonti migliori, ok? E fondamentalmente sento che qualcuno semplicemente lo comunica, ok? Me ne vado, ciao! Una cosa di questo genere, ok? Se non fosse il vostro caso, che non ve ne volete andare da una coppia, potrebbe semplicemente essere che prendete distanza da quello che è un qualche tipo di atteggiamento, un qualche tipo di situazione, di litigio, che magari non sia risolto proprio come voi avreste voluto. Andiamo a vedere il fante di coppe al contrario. Abbiamo un altro fante di spade e o di nuovo un 3 di coppe. Sì, io sento che c'è un qualche tipo di energia poco concreta. Ok, questo fante di coppe a me fa venire in mente qualcuno che si fa prendere un po' dei facili entusiasmi, magari promette, magari... Che potreste essere voi, eh? Nel senso, non è detto che sia la stessa energia del fante di bastoni, perché comunque in mezzo c'è stato l'allontanamento. Però ecco, quello che si sente è che questo tipo di energia dice, ok, parto. È un po' come quella del matto. Vado a spromba tutto senza valutare bene in realtà quali sono le reali possibilità. Semplicemente ho questo impulso di andare e vado. E con il fante di spade anche parto per la guerra senza neanche avere troppa pratica, mi verrebbe da dire. Senza essere troppo addestrati. Come se qualcuno qui si dovesse avventurare in qualche cosa di nuovo, non fosse appoggiato dalle persone che ha intorno. Ma voi, di coccio, andate avanti per la vostra strada. Ed è così che si fa. Nel senso che non bisogna ascoltare gli altri. Cioè, i consigli sì vanno ascoltati, però nel senso poi voi potete valutarli e prenderli solo se creano davvero un vantaggio per voi. Non è che perché qualcun altro ci dica... Perché la gente quando dà i consigli li dà per il proprio vissuto, ok? Quindi se una persona... Scrivete consigli a una persona a cui è andato sempre tutto male nella vita, è chiaro che vi dirà no, non fare niente perché tanto ti va male. Non so se avremmo reso l'idea. Allora, il mago è spiegato dal carro e dall'imperatore. Sì. Qui è imperativo allontanarsi. Abbiamo di nuovo la carta del carro. Allora, per qualcuno fa riferimento a quello che potrebbe essere il muoversi a livello, come dicevo prima, con un mezzo, quindi spostarsi, traslocare, lasciarsi proprio indietro quello che è questo tipo di energia. Per altri, il carro mi parla di quello che è il prendere una direzione, il decidere, visto che spiegano il mago, ok, io voglio quella cosa lì e sto facendo di tutto, voglio fare di tutto, voglio cercare quello che è una mia stabilità, perché adesso l'imperatore è al contrario, per riuscire a inseguire il mio sogno, insomma, per inseguire ad avere quella persona, per riuscire ad avere, non lo so, quel tipo di convivenza, quel tipo di relazione. Sento che molti stanno acquisendo la capacità di manifestare nel modo corretto, perché dire io voglio quello, così tanto per dire, porta un po' i risultati che trova, no? C'è tutta proprio una tecnica di manifestazione. Wow! Amici della Vergine, sento che qualcuno prenderà le distanze. Otto di Coppe, Otto di Coppe, poi abbiamo la Ruota della Fortuna, che anche qui mi parla di quello che potrebbe essere un viaggio, uno spostamento, abbiamo il carro, quindi se non è uno spostamento fisico, ripeto, è uno spostamento magari di attenzione, piuttosto che di pensieri o da determinate emozioni. Però un cambio c'è, si va verso quello che è la manifestazione della vostra realtà. Andiamo a vedere con le carte di Osho il conscio e l'inconscio, quello che si vede e quello che non si vede. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, iscrivervi e condividere. Abbiamo lo stress e il ribelle. Wow! Il ribelle è di nuovo l'arcano maggiore dell'imperatore. Quindi, per certi versi, siete stressati da tutto quello che è questo momento, dalle proiezioni, da quello che potrebbero essere le bugie che voi raccontate voi stessi o che vi stanno raccontando, da tutto questo, se vogliamo anche focalizzarsi un po' su quello che non avete. Dall'altro lato, quello di cui non vi rendete conto è che avete una forza, una stabilità, una concretezza, una potenza di cui voi non vi rendete assolutamente conto. In realtà voi ce l'avete, la state lavorando, la state manifestando, state lavorando per girare questo imperatore al contrario. E infatti c'è il mago, ricordo anche che è il mago numero uno, quindi di nuovo verso la fine del periodo si va verso quello che è un inizio di un nuovo ciclo karmico, si va verso l'inizio di un nuovo capitolo, se vogliamo, della vostra vita. Ok? Che ripeto, non è che necessariamente si debba lasciare la persona con la quale magari abbiate iniziato una relazione, ma può essere semplicemente che c'è una trasformazione nel modo di vivere la relazione, ok? Bene, andiamo a vedere ancora un messaggio da parte degli angeli del cuore, vediamo che cosa hanno da dirvi. Ancora un messaggio per gli amici della Vergine, per piacere, grazie. Wow, vero amore? Questo è l'amore della tua vita, quindi per qualcuno potrebbe essere che questo è l'amore della sua vita, bisogna solo fare determinati tipi di aggiustamenti, ma sappiamo che comunque le persone che arrivano nella nostra vita sono lì per insegnarci qualche cosa, ok? E poi abbiamo lasciati aiutare dagli amici e qui vedo questo 3 di coppe che mi parla di amici, ok? Ce l'avevate anche qui il 3 di coppe, quindi chiedi e accetta e accetta supporto degli altri. Quindi qui potrebbe essere interessante per qualcuno magari fare un qualche tipo di confronto con degli amici, no? Perché magari se si vive sempre la relazione io e l'altro, vabbè io sono una donna quindi parlo al maschile, io e l'altro, e non ci si confronta magari con energie esterne, può essere che si creino dei circoli viziosi, perché quando si inizia a vedere la cosa in un determinato modo poi, è difficile uscire dal loop, da questo circolo, ok? Si tende a dare energia sempre alla cosa nella stessa maniera, no? Ci si incancrenisce un pochettino in quello che è il modo di vedere la cosa. Il fatto di confrontarsi anche con altra gente permette di aprire un pochettino la mente, di dire ah sì, forse io la vedo così, ma potrebbe essere anche in quest'altro modo, ok? Quindi magari gli amici in questo senso vi possono aiutare ad aprire la mente. Bene amici della Vergine, se vincete alla lotteria fate un fischio, io vi ringrazio per il tempo che avete trascorso qui con me, spero che la lettura davvero vi sia stata utile in qualche modo, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!